Dopo la provincia di Teramo è tempo di viaggiare nella sanità chietina? Sì, noi partiremo da domani con Ortone e poi via via ogni lunedì o venerdì passeremo a rassegna tutti i presidi. L'obiettivo è lo stesso, è quello di portare i problemi nella sanità che si fanno nei luoghi dove la sanità si fa direttamente poi in consiglio regionale, soprattutto in vista del possibile nuovo piano sanitario regionale. A proposito, sembra che ci sia un utile e interessante per quanto concerne la sanità abruzzese, diceva ieri il governatore commissario ad acta Gianni Chiodi, cosa se ne farà? Intanto noi lo stiamo dicendo e ripetendo e avvieremo su questo una vera e propria campagna di informazione con fronte ai cittadini, quei soldi sono delle imprese e sono delle famiglie, cioè sono soldi delle addizionali che i cittadini pagano prima per ripianare il debito. Adesso che il debito è stato ripianato, quindi Chiodi non ha fatto nulla e sono i cittadini che hanno ripianato il debito con i soldi delle proprie tasse, adesso quei soldi vanno a riduzione delle tasse, senza se e senza ma. Questa è la nostra posizione. Non è manna calata dal cielo, è un diritto? È un diritto, soprattutto sono soldi delle famiglie e delle imprese abruzzese.